Allora, ci mangiamo sta pizza, io non so cosa sceglierò, vediamo un attimo, mi farò ispirare, ma dobbiamo prendere pure dei fritti prima, prendiamo dei fritti una cosa. Dice che ci stanno le chips di patate novelle rosse eccezionali. Quelle? Quelle di Casamare. Quelle di Casamare rosse, penso. Penso di sì, quindi una le assaggerei. Valutando se prendere dei fritti, c'è chips di patate novelle, frittatine napoletane, e il tagliere di salumi e formaggi. Acquapanna. Quindi frittatina, un bel tris di montanare con della pancetta buena, delle chips rosse e delle salsette. La montanarina. Fettatina. Com'è? Fila? Fila tuta. Bella fettatina. Allora, è arrivata la mia fresca. Ci abbiamo la rucola, le melanzane, un po' di grana partoggiato. Invece a te che, cos'è la devozione? La devozione. Qui invece abbiamo una burrata, un crudo di parma, dei pomodorini gialli e rossi. Che fa? Apre la burrata? Sì. Prego, prego. Vedete come si unge sulla pizza eccezionale. La stessica salizia è pienissima e buonissima. Eh? Assaggiamo anche la... Come si chiamava la tua? Devozione di formaggi. La devozione di formaggi. Le portano un'altra, scusa. Grazie, si è gentilissimo. Con gorgonzola al cucchiaio. Vedete come si... Come potremmo dire come si... Duffa sulla pizza. Tra l'altro poi... Il servizio dei camerieri è eccellente, eh. Venite da Ricomincio da Zero a San Carlo. Eccezionale. Allora hai ordinato un'altra pizza. Sì. Quella hai ordinato? Ecco, la sta arrivando. Alici in fiori? Sì. Sei un pazzo, sei un pazzo criminale. Alici in fiori. Questa è bellissima, eh. Alici con odore secchi e una paella di baci che è in solito. Eccezionale. Ecco. Proviamo questa alici in fiore. Alici di sciacca, ricotta di bufala, fiore della campagna. Siamo in difficoltà di ossigeno. Ma questo ce l'abbiamo fatta. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. e ci vediamo al prossima. Allora.